Ciao a tutti, seconda lezioncina sul Word vediamo come inserire una tabella andiamo all'interno del pannello inserisci, tabella allora vediamo che è possibile inserire una tabella che è fatta da una serie di righe e una serie di colonne sia con un'interfaccia grafica, vedete che ci sono dei quadrati dove più ci spostiamo verso destra e più inseriamo colonne più scendiamo verso il basso e più inseriamo righe quindi se noi vogliamo una tabella di 4x4 possiamo fare in questo modo qua scegliamo 4 cellette per 4 cellette altrimenti ci inserisci tabella dove possiamo mettere il numero di colonne e il numero di righe 5 colonne e 2 righe ed ecco qua la nostra tabella la nostra tabella dove possiamo scriverci all'interno per esempio vendite clicchiamo nella cella anno 2012 anno 2013 per esempio anno 2014 e anno 2015 2015 a questo punto possiamo anche selezionare mettere il cassetto, il corsivo sottolineato mettere un colore per esempio un blu e questa è la nostra tabella se vogliamo cancellare la tabella selezioniamo tutto facciamo desto selezioniamo tutto tenendo premuto facciamo destro cioè elimina tabella vediamo adesso come inserire un'immagine abbiamo in pannello inserisci immagini clicchiamo andiamo per esempio sul desktop immagine questa è l'immagine vedete che l'immagine dove ci sono i bordi abbiamo dei piccoli anellini qua è possibile tenendo premuto col sinistro andare a ridimensionare la nostra immagine oppure qua la possiamo anche ruotare se vogliamo dare una posizione alla nostra immagine dobbiamo andare in posizione vedete che abbiamo nove posizioni per esempio la possiamo mettere in alto a destra rispetto al testo la possiamo mettere al centro in alto oppure al centro in mezzo e una volta che abbiamo dato una posizione alla nostra immagine poi tenendo premuto col sinistro la possiamo trascinare dove vogliamo ok per cancellare un'immagine possiamo fare dopo che l'abbiamo selezionata cance da tastiera ciao a tutti grazie salvare no